Amsic Ancora per Maggio Partito in sovrapposizione Il cross di Amsic Pazienza Occasione per il Napoli Gondossena Ancora Teresi Con Mobek Ishizaki Prova la conclusione Morgan De Santis Mi tiene pazienza Trova Maggio Con una palla un po' alta Difficile da mettere giù Ma il Napoli ci riesce Ancora con pazienza Che cerca davanti La palla è ancora Sui piedi di Ishizaki Comunque chi pensava Ad un avversario materasso Evidentemente avrà capito Che gli svedesi Sono una buona squadra Lo stanno dimostrando Anche adesso Con Florena Palla dentro per Avdic Fallisce un gol incredibile Avdic Gargano Accelera Prova la conclusione Gargano Kristiansen Amsic Al limite Maggio Prova il sinistro Ancora Kristiansen Quagliarella Provare dalla distanza Kristiansen Amsic Che prova ancora il sinistro Bella Maggio E il Napoli Non riesce a segnare La porta è stregata Stasera Buona di Lavezzi Lavezzi Salta il portiere Lavezzi 3 euro 3 euro Lavezzi 1 a 0 Per il Napoli Attenzione ad Eriksson Al limite Mark Palla larga Per Keane Cerca la conclusione Keane Entra in area di rigore Avdic Poi prova Larsson De Santis Miracolo Quagliarella C'è la Vezzi In posizione Irregolare Quagliarella Fa tutto bene All'argo del gioco Per Amsic Contro Pierele Napoli Amsic C'è La conclusione Dello Slovacco Che finisce fuori Quagliarella In area di rigore Cerca lo spazio Per calciare Mette il pallone In mezzo Per la Vezzi Al limite Avdic Prova lui De Santis Con i guantoni In angolo Ora il Napoli Con Lavezzi Dentro Cavani Che occasione Per Cavani Lavezzi Movimento di Cavani Palla per lui In area di rigore Cerca di girarsi Cavani Lavezzi Dentro Ancora Zuniga Alza la testa Mette il pallone In mezzo Quagliarella Gancia Al limite Lavezzi Col sinistro Attenzione ad Ericsson Carlson Prova la conclusione Proprio A tempo scaduto Finisce 1-0 Per il Napoli Un Risultato Che vale Tra sette giorni In Spezia L'opportunità Di giocarsela Con due risultati Su tre Di giocarsela Gratis Di giocarsela Grazie a tutti